L'Eurogruppo dei Ministri delle Finanze ha respinto alla richiesta della Grecia di vedersi concedere una proroga del programma di aiuti fino al referendum, annunciato da Alexis Tsipras per il 5 luglio. Le reazioni negative al colpo di mano del Premier sono arrivate subito, come era prevedibile, e il no dell'Eurogruppo complica ulteriormente le cose. Dopo una pausa i ministri torneranno a riunirsi, probabilmente senza la Grecia, ma si fa sempre più concreto il rischio di un'insolvenza sul pagamento di 1,6 miliardi di euro che i greci devono versare entro il 30 giugno al Fondo Monetario Internazionale. Il ministro tedesco Wolfgang Schäuble ha parlato di una rottura unilaterale del negoziato. Il programma di aiuti si concluderà martedì, ha detto. Eravamo venuti qui per cercare di negoziare sulla base di una posizione unitaria con la Grecia, ma il governo greco, se capisco bene, ha messo termine unilateralmente al negoziato. Il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, prima dell'Eurogruppo, aveva cercato in qualche modo di lasciare aperta una porta, ammettendo però che la mossa greca ha interrotto il negoziato. Anche la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, aveva cercato di evitare toni da epilogo. Si continuerà a lavorare per cercare un accordo che consenta di aiutare la Grecia, aveva detto, ma anche sottolineato che questo deve appoggiare su riforme strutturali e risanamento da parte dei greci e sostegno finanziario e operazioni sul debito per renderlo sostenibile da parte dei partner europei.